Il 2018 sarà l'anno di ricepimento delle modifiche alla direttiva armi, che è stata pesantemente stravolta l'anno scorso su spinta della Commissione europea. Tutte le associazioni si stanno già muovendo in maniera decisamente coordinata per cercare di rendere quanto possibile meno pesante l'impatto di questo ricepimento in atto. Il gruppo di lavoro che si è venuto creando sta lavorando in maniera molto serrata e personalmente io sono molto soddisfatto perché c'è un clima di unione e di collaborazione che in precedenza non c'era mai stato.